eccoci qua siamo in viaggio verso uno dei primi viaggi importanti stiamo via la bellezza di 11 giorni adesso siamo un po in coda abbiamo camion da tutte le parti però quando entri nel mood vacanza direi che non c'è nessunissimo problema per adesso ciao a tutti eccoci qua l'orario del pranzo vi facciamo vedere come si organizza anzi stiamo già mangiando come sempre mi ricordo di fare i video tardi qui abbiamo la zona cucina qui abbiamo zona tagliere o cucina a seconda di come ci organizziamo col vento grazie a camilla che mangia oggi abbiamo che cosa abbiamo di buono carciotti in padella con hamburger di lupino ciao a tutti alla prossima avete presente quando ogni tanto nella vita si gode questo è quando si gode il prezzo al litro del diesel 1134 tanta roba l'unica cosa che un caffè espresso costa 2 euro e 98 però del resto dai tutto bene ciao cosa ti aspetti da questo viaggio ma indubbiamente la pace nel mondo è un po più naturale cosa mi aspetti in questo viaggio mi aspetto molto probabilmente capire se la vita hai già rotto le palle se la vita in van life mi piacerà da morire ce la fai puoi dirmi cosa ti aspetti da questo viaggio da questo viaggio rispetto trovare qualcosa poi non so che cosa ma perché mi devi portare in transilvania che ci sono gli orsi non so che cazzo taglia voglio fare una corsettina però con calma voglio già andare a fare una corsettina e io mi riposo no tu vieni con me non mi senti faccio e ti prendo il titolo dello spesso con tanto amore comunque una location così primo posticino non male cos'è che fare non capire bene come funziona mi ha detto che 5 chilometri sono tanti c'è cinque perché vi si muove sempre con quel macchinone la le felci mi piacevano tanto la bambina le infilavo in tutti i libri non 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 non